Siamo in un ristorante italiano, in attesa di cenare, Vincenzo ha ordinato la pizza e anche Gianni. C'è una bella fontana, siamo nel cuore del Mall of the Emirates. E guai a sedersi su questa fontana. Infatti c'è questa solerte guardia che con impegno gira, 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 attorno alla fontana. Per evitare che qualcuno, incautamente, si sieda sul bordo e trascorre ore e ore della sua attività professionale a girare attorno alla fontana. Eccolo di nuovo lì che arriva. Eccolo qua. Altro dirham, altra cosa. Un dirham per giro. Altro dirham, altra cosa. E' trascorre, non così? A un po' il fondo che ho potuto capire. E' un po' il fondo che ho potuto capire. E' un po' il fondo che ho potuto capire. E' un po' il fondo che ho potuto capire.